Ben tornati a Roma Città Aperta, dunque vi ho promesso un approfondimento anche sulla situazione attuale a Roma Nord. Tra poco sentiremo sia il presidente del quindicesimo municipio che il nostro giornalista Maglio Sirreti, che come vi dicevo è andato a visitare la stazione di nuovo Salario, ha diverse cose da raccontarci. Però in questo spazio abbiamo anche due ospiti che intanto saluto e vi presento. Antonio Dele Fratte lo conoscete perché viene a trovarci quasi ogni settimana ormai per parlarci di Cesare Augusto. Oggi si è fatto accompagnare da Antonino Anzaldi, benvenuto. Grazie. Esperto di storia delle religioni. Sì. Allora, un collaboratore, un amico dell'associazione Gilexis Studio che sta portando avanti questo importante impegno di ricordare e diffondere le opere e la storia di Cesare Augusto nell'anno del bimillenario dalla sua scomparsa. Allora, lascio ad Antonio Dele Fratte l'onere di presentarci l'ospite che oggi ci aiuterà in alcuni approfondimenti. Ho l'opportunità e la fortuna di conoscere Antonino da tantissimi anni e essendo lui esperto, come ha detto, di un settore ben preciso, ho potuto individuare un argomento che non è molto trattato nei libri di storia, a quella parte di Augusto che fa, diciamo, riferimento al mistero, che riguarda la religione romana e soprattutto la sua attività proprio personale di pontefice e quindi, avendo Augusto, oggi possiamo trattare, anche se brevemente, questo aspetto dell'imperatore Augusto, che è ben poco noto. Allora, abbiamo una domanda, abbiamo preparato con Antonio Dele Fratte anche oggi una domanda per voi, ne facciamo sempre più difficili queste domande. Allora, perché Augusto si cambiò il segno zodiacale? Io non sapevo che Augusto si fosse cambiato il segno zodiacale e di certo non so il perché abbia preso questa decisione, però questa domanda adesso la lasciamo un po' in sospeso e aspettiamo, appunto, i nostri telespettatori, se vogliono chiamarci, appunto, per darci loro la risposta. 0659 10 285. Ecco, parliamo però con, appunto, Antonino Anzaldi di questa estrema vicinanza e interesse di Augusto nei confronti dei riti, degli aspetti religiosi. Parlo? Prego. Bene, allora, diciamo innanzitutto che a quei tempi in cui ancora eravamo in un mondo, in una civiltà che possiamo definire tradizionale, il sacro non era così separato dal profano come al giorno d'oggi, quindi in qualsiasi delle attività che si svolgevano, fossero esse pubbliche o private, c'era comunque sempre e comunque una nota di sacralità. Da quando una mattina, che so, il paterfamiglia si alzava e onorava, anche con qualche piccolo sacrificio, i penati, i lari, le divinità familiari, eccetera, quando poi usciva e andava nel foro a discutere anche di affari privati, di commerci, eccetera, comunque sempre in nome di qualche divinità e nella vicinanza di qualche tempio. Quindi, diciamo, una certa religio praticata c'era sempre e comunque. Va da sé che c'era anche negli alti vertici dell'impero, dell'amministrazione pubblica, se vogliamo chiamarla con terminologia odierna. E quindi va da sé che Augusto anche era a capo della religione romana, dello svolgimento delle cerimonie relative alla religione romana. Non a caso era anche, lo diceva prima Antonio, si autonominò più o meno, perché Augusto piano piano assunse su di sé tutte le cariche repubblicane che esistevano. Quindi poteva dire di non aver assolutamente abolito il regime repubblicano. Solo che tutte le cariche poi le aveva in capo lui e quindi la cosa era leggermente cambiata. Comunque tra queste cariche c'era anche quella di Pontefice Massimo. Chi è il Pontefice? Esatto, questa era la domanda che stavo per fare. Ecco, allora, lo dice lo stesso nome, il Pontifex è qualcuno che fa i ponti. Quindi va da sé che i ponti possono essere fatti sia materialmente, costruiti sul Tevere, perché c'era anche l'incaricato con funzione amministrativa e religiosa per il facimento degli ponti, proprio quelli che calpestiamo noi coi piedi. Ma i ponti si possono anche fare tra la terra e il cielo. Quindi dei ponti che uniscono l'umanità, vogliamo dirla poi in termini romani, agli dèi, ai numi, ecco. E quindi la religione, se vuoi io parlo, lei di me mi interrompa quando è il momento. E quindi capite quanto fosse importante assumere anche questo incarico. Torno ad Antonio Nelle Fratte. Nella sua idea di costruzione di pace, avere anche un ruolo religioso così importante, che importanza assumiva? Il fatto che abbia fatto un altare della pace, sta a significare che la pace era un fine sacro da perseguire politicamente. Quindi anche questo obiettivo che oggi reputiamo laico, all'epoca era un obiettivo religioso, perché significava stabilire la pace nel mondo e fare il bene degli uomini. Da sempre il fare il bene era un'indicazione che partiva dalla divinità. E non a caso, oltre a fare l'altare della pace, lui fece edificare anche il Panteon, che è il Tempio di tutti gli dèi. E su questo si vede la grande apertura mentale di Augusto, che non fece il Tempio degli dèi romani, fece il Tempio di tutti gli dèi. Quindi tutte le comunità che si trovavano a Roma avevano libertà di culto, perché erano ammessi tutti. Non c'era l'intolleranza religiosa. Questo è un punto di forza, si è sempre detto, che i romani avevano questo di forte, di conquistare senza costringere le persone a rinnegare la propria cultura. Questo è stato il grande punto di forza. Se noi pensiamo alla questione ebraica, che già esisteva allora, non è che la questione ebraica nasce oggi, Augusto sulle orme di Cesare assicurò agli ebrei una grande libertà di culto e inoltre gli assicurò che il Tempio non sarebbe stato profanato. Ricordiamo che Pompeo aveva rubato l'oro del Tempio di Gerusalemme e che poi Cesare lo fece restituire. Quindi non era poco per gli ebrei, perché l'oro... A proposito, Gerusalemme, mi diceva Antonio, ultimamente aveva anche un'altra funzione. Gerusalemme, il Tempio di Gerusalemme, dove c'erano i mercanti, quelli che poi Gesù cacciò appunto dal Tempio, ma il Tempio era anche, diciamo, una banca. Il Tempio era il centro di cambio del mondo antico e lì avveniva lo scambio dei vari affari tra i paesi a monetazione argentea, cioè i paesi orientali, e quelli a monetazione aurea, che erano i paesi occidentali. E quindi c'era anche questa funzione che era sociale e via dicendo. Va da sé che anche la moneta e l'emissione della moneta nell'antichità era considerata come qualcosa di sacro e relativo alle divinità. Non a caso sulle monete degli imperatori c'era sempre, uno diceva, beh, chiaro, c'è la faccia dell'imperatore, ma la moneta andava ovunque e quindi il volto e la sacralità dell'imperatore si diffondevano ovunque ed erano ovunque presenti anche se uno si comprava, che ne so, due soldi di pizzetta, la pizza dell'epoca, ovviamente. Antonio, noi facciamo sempre i paragoni tra il passato e il presente. Adesso la moneta l'ha persa questa sacralità, anche se ancora c'è qualche re nelle effigi, qualche personaggio importante. Infatti non ci sono più gli dèi sulle monete. Comunque sì, a noi basta ricordare soprattutto la moneta italiana aveva tutti i grandi personaggi della nostra storia. Quindi sempre aveva questa funzione. Ritornando alla religiosità, a Roma infatti c'era il tempio di Giunone Moneta, da cui viene la parola moneta, che non era la zecca ovviamente, però stava sopra dove veniva stampato, dove veniva coniato il danaro. Inoltre, non a caso, ritornando a Gerusalemme, a Gesù fu posto il grande quesito. se dovevano pagare i tributi ai romani oppure no. A Cesare. E c'è qualche interpretazione molto, diciamo, originale riguardo a questo. Sentiamo, sentiamo Antonio Anzano. No, un po' complicata. C'è qualche studioso che interpreta le parole di Gesù. Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, e quindi restituisce la moneta con sopra, giusto, la faccia dell'imperatore. E dice che questo era proprio, mi riferisco anche a quanto ho detto prima, Gesù con questo atto rifiutava quello che era il potere imperiale, quindi la sua diffusione attraverso anche la moneta. Mentre se avessi invece detto di non pagare, Gesù sarebbe stato accusato di tradimento e insurrezione nei confronti dei romani. Se avesse detto soltanto di pagare, sarebbe stato accusato di tradimento nei confronti degli ebrei. Trovò la risposta più diplomatica che poteva trovare. Gesù ha dato la risposta che lasciò tutti interdetti, perché con quella risposta nessuno lo poteva accusare di tradimento. Nei romani dominatori, negli ebrei dominati. Risposta perfetta. Rivediamo ancora una volta la domanda. Perché Augusto si cambiò il segno zodiacale? Così torniamo ai temi della religione, di questo ruolo di pontefice che ad un certo punto Augusto decise di assumere completamente su di sé. Questa è la domanda. Siamo vicino a darvi la risposta, ma ancora lasciamo qualche minuto ai telespettatori. Intanto i segni zodiacali sono gli stessi che conosciamo oggi? Sì, sono gli stessi che conosciamo oggi. C'è solo una piccola precisazione da fare, e cioè che i segni erano sempre dodici, anche in quell'epoca, se non che il segno dello scorpione era, diciamo così, doppio. La bilancia non esisteva, ma esisteva lo scorpione e le chele o pinze dello scorpione. Quindi era diviso in due, anche perché effettivamente non come segno zodiacale, ma come costellazione in cielo è molto vasta. Quindi veniva diviso in due. Queste chele dello scorpione, più o meno proprio nel periodo augusteo e vergilio, poi ne approfitta, diciamo così, per incensare, per l'appunto Augusto, di cui era, diciamo, poeta di corte, con terminologia moderna, ma anche non solo moderna, e le fa diventare, le due chele, i due piatti della bilancia. E vedremo che la bilancia, rispondendo poi a perché si è cambiato segno, vedremo anche che comunque non l'ha cambiato nel senso che l'ha rinnegato, ma ha giocato sopra due segni, perché la cosa faceva comodo al suo impero, al suo essere imperatore, ed essere imperatore, ripetiamo, era anche un qualcosa di sacro e di religioso. Certo. E dunque, questi segni zodiacali venivano tenuti in grande considerazione da tutti, cioè, ecco, questo aspetto dei domani antichi, mi chiedo, quanto fosse diffuso anche tra le persone normali. No, era piuttosto diffuso. Non c'erano gli oroscopi, però? Come no? A voglia se c'erano gli oroscopi. C'erano, c'erano. Eeeh, c'erano. Quello che era ambiguo era l'atteggiamento, diciamo, della legge, che poi era degli imperatori, nei confronti di queste, delle previsioni fatte attraverso l'astrologia. Perché, per esempio, Augusto, dopo di lui anche molti altri imperatori, Augusto a un certo punto allontana gli indovini di ogni genere da Roma e poi a un certo, un altro punto, il che vuol dire un altro tempo, scusate, vieta di fare pubblicamente previsioni di morte e vieta in assoluto, è ovvio, di fare previsioni di morte per gli imperatori e i funzionari imperiali. Perché, dato che all'astrologia si dava un notevole peso, allora, se c'era la previsione di morte, qualcuno poteva fare certi suoi piani e magari anche a accelerare queste morti. Certo, 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 poteva essere un tutto bel maravano. E comunque sia, anche condannando poi, sempre e comunque, non solo nell'impero romano, i governanti, poi, gli astrologi, li frequentavano e come? Li frequentavano anche e soprattutto quando dovevano prendere decisioni, quando dovevano partire per missioni, per un'impresa che dovevano portare avanti, sia di guerra che altro. Oltre agli oroscopi avevano pure gli auguri che interpretavano il volo degli uccelli oppure che interpretavano i sogni. Non è Freud che ha scoperto l'interpretazione dei sogni. Anzi, così, per inciso e non c'entra, quando Alessandro Magno conquistò Tiro dopo un lungo assedio e sembrava che non riuscissero i Macedoni a vincere, lui fece un sogno. Si sogna un satiro. il suo indovino gli disse Saturos staccato. Tiro è tua, significa che l'avrebbe conquistata. E quindi, come vedi, ha interpretato il sogno. Il satiro diventa sempre la fusione di due parole nella sua figura, anticipando di bene oltre duemila anni Freud. Perfetto. Allora, tra poco torniamo ad occuparci della situazione di Roma e lasciamo quindi ancora in sospeso per qualche minuto ancora la risposta definitiva anche se ci stiamo avvicinando ormai. Abbiamo dato molti indizi. Torniamo a controllare la situazione in città. Adesso andiamo a controllare cosa sta accadendo a Roma Nord dove, ricordiamoci, ci sono stati l'alluvione ha colpito immediatamente con gravidanti, anche lì forti allagamenti, persone bloccate nelle abitazioni per diverso tempo. Abbiamo raggiunto al telefono il presidente del quindicesimo municipio, Daniele Torquati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, cominciamo un tanto dal quadro della situazione. Che punto è il superamento dell'emergenza? Le persone sono tornate a casa? No, ci sono delle persone ospitate dell'hotel Flaminius, sono 30 adulti e 12 bambini per adesso. Sono quelli che erano ospitati, sono stati ospitati inizialmente nella chiesa della Giustiana ai quali abbiamo fornito i pasti sia mattina che sera e adesso invece stanno all'hotel Flaminius. Stiamo insieme all'assessore Ottavi verificando se ci sono altre situazioni limite per avere più spazio per ospitare persone. per quanto riguarda le persone senza casa. Poi adesso c'è da contare i danni e cominciare a ripararli. Intanto cosa ne pensa di questi tanto 10 milioni messi subito a disposizione dal Comune di Roma potranno servire alle prime emergenze? È un segnale positivo ovviamente non sono sufficienti per i danni che abbiamo rilevato in questi giorni e che stiamo contando adesso. questa sera entro le 8 manderemo tutto il report non delle emergenze ma dei danni subiti all'amministrazione comunale che naturalmente le trasmetterà per il Consiglio dei Ministri per la calamità naturale. In ogni caso questi 10 milioni che ieri il sindaco in persona ha chiesto a tutta la giunta dove eravamo presenti i 4 presidenti del municipio di Roma Nord sono un segnale estremamente positivo uno sforzo enorme dell'amministrazione comunale che non ha avuto che non ha ancora il bilancio approvato e quindi è uno sforzo enorme per quanto mi riguarda. è un segnale positivo noi abbiamo parlato molto in questi giorni del tema della tempestività degli interventi abbiamo per esempio affrontato la situazione di Fiumicino e dintorno insomma anche la situazione di Ostia e zone limitrofe dove ci sono stati anche là grossi allagamenti lì molti lamentele per quanto riguarda appunto la poca tempestività o la non sufficienza dei mezzi delle idrovore soprattutto messi a disposizione da voi com'è andata? I cittadini sanno benissimo che il carico idraulico di questa zona di prima volta non è più sufficiente questo è il punto è ancora più drammatica della situazione di un guasto piuttosto che di un falso furto di rame che è andata in giro in questi giorni delle idrovore qui la questione è ancora più complessa che deve necessariamente essere sanata e dall'altra parte che non è assolutamente una questione di tempestività ma è soprattutto una questione strutturale del carico dell'idraulico del sottosuolo quindi adesso quali sono le opere effettive senza stare a quantificare i milioni di euro che serviranno ma le opere effettive per evitare che con nuove piogge si ricrei il problema magari l'anno prossimo servono canali ci sono due temi uno è il rifacimento del sottosuolo e l'adeguamento del sottosuolo con i 5 milioni che sono fermi nel patto di stabilità da una parte questo è quello che riguarda l'amministrazione comunale per quello che può fare sbloccando i 5 milioni di euro dall'altra 5 milioni fermi da 15 anni non è che sono fermi da oggi dopodiché c'è un'altra questione di rapporto con tutti quegli enti che si occupano della pulizia dei fossi e l'adeguamento a questa pulizia dei fossi ok quindi un lavoro di pulizia più che di ampliamento di pulizia ma anche sicuramente di verifica del carico di questi fossi perché se si deve fare una ricognizione del carico del sottosuolo e del sistema idraulico del sottosuolo si deve fare anche una ricognizione del sistema idraulico sopra e quindi anche quello dei fossi benissimo Presidente grazie intanto di queste parole oggi avremo modo di parlarne ancora se mi concedete altri due secondi anche se andiamo di corsa la viabilità invece è compromessa in questo momento da una chiusura di via Cassia tra via Parete e piazza Giochi Delfici per un costone di un privato che è una cosa piuttosto complicata da risolvere perché sopra c'è una casa e quindi non possiamo pulire sotto la strada perché c'è rischio di frana sopra e il via Salc dove è una zona di collegamento tra prima porta e la via Flaminia una strada che porta anche all'ospedale Sant'Andrea che in questo momento è chiuso nonostante ieri sia il dipartimento che le nostre ditte hanno pulito perché continua ad uscire a sversare fango in quanto c'è una piana sopra completamente imbevuta d'acqua e quindi spero nei prossimi giorni perlomeno di aprire questo tipo di viabilità e poi ovviamente all'Olimpica che siamo riusciti ad aprire per una corsia sola un'ora prima della partita perché non era stata spostata ma anche quella ha un problema di tenuta che è dovuta insomma al costone che sta a sinistra questo è per quanto riguarda la viabilità per quanto riguarda finisco la questione dei risarcimenti privati speriamo nelle prossime ore la registrazione in stazione comunale sia in stazione per quanto riguarda dei moduli o dei modelli per cercare di perlomeno verificare quello che è successo infine aspettiamo la comunicazione per un foglio che è molto sembra una stupidaggine ma è molto importante per i giustificativi del lavoro di queste persone dei lavoratori e delle lavoratrici che in questi giorni non sono potuti andare a lavorare perché hanno pulito casa e abbiamo tempo fino a fine febbraio quindi i lavoratori e le lavoratrici devono sapere che hanno tempo fino a fine febbraio benissimo ok presidente ci ha dato tante informazioni preziosissime comprese quelle sulla viabilità adesso la saluto continueremo a seguire grazie grazie dell'aiuto che ci stai dando cercando di dare con grande piacere per quello che possiamo buon lavoro arrivederci allora non so se a questo punto faremo in tempo a vedere il servizio che vi promettevo da Maglio Serreti riguardo alla stazione di nuovo salario chiedo alla regia una verifica abbiamo pochi minuti diamo la risposta io vado da Antonino Anzaldi voglio sapere finalmente perché Augusto cambiò il suo segno zodiacale e da cosa a cosa cambiò naturalmente sì beh lui era nato sotto il segno della bilancia che come dicevo erano le chele dello scorpione che sotto di lui diventano piatti della bilancia lo dice Virgilio nelle Georgie che dice che lo scorpione quasi si ritrae di fronte a questa nascita di un fanciullo che sarebbe poi divenuto quello che è divenuto e quindi era della bilancia e lui però si fa raffigurare con sopra la testa in alcuni gioie per esempio in una la cosiddetta gioia Gemma ecco Gemma Augustea la Gemma Augustea rappresenta il trionfo di Tiberio accanto a Tiberio c'è Cesare Ottaviano Augusto e sopra la testa ha il segno del capricorno quindi diciamo che lui era nato bilancia però si faceva passare o si ispirava diciamo così al segno del capricorno perché le come dire le teorie chiamiamole così sono varie ma non si escludono l'una con l'altra innanzitutto era il suo segno di concepimento se non quello di nascita quindi era il segno di nove ecco e poi però c'era un altro fatto che il segno del capricorno è il decimo segno che ha dei significati che poi attribuisce alla decima casa dell'orosfobo che sono prima ve lo dico in latino domus regia prelature dignitatum quindi è la casa del 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 successo della regalità e tutte cose che ovviamente in un modo o nell'altro attengono ad una chiamiamola carica ad una posizione imperiale a questo proposito voglio dire un'altra piccola cosa perché lui si chiamava Cesare Ottaviano ed era stato adottato da Giulio Cesare e poi diventa Augusto e Augusti diventano tutti gli imperatori ma cosa vuol dire Augusto Augusto dal verbo augeo greco auxano significa accresciuto accresciuto di che o da che dalla grazia degli dei e con questo possiamo chiedere la puntata serenamente grazie ad Antonio Delle Fratte ad Antonino Anzali grazie a voi questo spazio torna comunque la prossima settimana con altri approfondimenti e curiosità su Cesare Ottaviano Augusto la nostra puntata di Roma Città arrivederci grazie a tutti grazie a tutti